San Casciano La mia famiglia è un'azienda e ogni casa è una fabbrica perché siamo tutti padroni! E' un paese dove tutti possano realizzare i propri testi, dove tutti possano dare il meglio di si stessi, dove sia possibile la speranza! La mia famiglia è un paese! Trasformeremo questo paese in un paradiso! L'era della felicità è arrivata per tutti e anche per gli oppositori e i comunisti! Non siamo né di centro né di destra né di sinistra ma siamo per la libertà, il benessere e la prosperità! C'è chi sta dicendo in questi giorni sperate ed entrerete nel regno dei cieli! Noi diciamo scegliete, votate e sarete voi a regnare! Noi diciamo scegliete, votate e sarete voi a regnare! Noi hanno scatenato! Hanno scatenato contro di noi la forza e giustizia! Ma noi diciamo siamo banditi? Nooo! Siamo criminoni? Nooo! Allora ambranvi che si evitavi perché di loro è il vento! Nooo! 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 È tutto per ora, vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata! Nooo! Nooo! E